Nella fase di indagine, se capisci che è iperlogico, puoi fare la domanda, ma nelle decisioni più importanti, con chi ti sei compitato? Questa è un'altra domanda che iperlogici dovete fare. Nelle tue decisioni più importanti della tua vita, chi ti è stato vicino? Chi è che veramente ti ha supportato? E se ti vuol dire per te stesso? E beh, ricade in quella cosa lì, vuol dire che è lui stesso. Allora, che è il diritto parlante? La tua coscienza. E allora devi utilizzare le frasi del tipo, ma ce l'hai una coscienza tu? La tua coscienza, cosa ne penserebbe di questo tuo comportamento? È chiaro il concetto? Però se una persona è iperlogica, se una persona, dimmi. E se quella, quel diritto parlante non c'è più mancato? Ah, no, no, anzi, se è mancato è più poco ancora. Tenete presente che le persone quando muoiono diventa un gettore. In vita puoi anche provare rabbia e mandarla stendere e parlare anche male. Quando muore lo santifici. Cioè, quando il genitore muore, tu vai subito a rimuovere la rabbia che viene ai suoi confronti. Non potrai mai parlare male di un tuo genitore che è morto. Mai. Cioè, le persone morte acquisiscono questa forza. Quindi nella testa il genitore continua a vivere. È chiaro. Quindi, può usare il plasma, tua madre si ribatterebbe nella tomba, secondo me. Cioè, ma quella buonanima di tua madre cosa avrebbe pensato? Cosa ti avrebbe detto? Se tua madre fosse ancora viva, cosa avrebbe pensato tutto questo? Quindi, faccio l'esempio della madre, potrebbe essere qualunque altra persona. Però ogni persona, iperlogica, ha un grillo parlante. Se non ce l'hai la sua coscienza. Ma cosa è stato? Stabilizzando tutto questo? Beh, perché di un palante ha un potere nel comportamento della persona. Quindi, nella seduzione, tu devi indurre, mettere inizio a fare delle cose che normalmente non vorrebbe fare, no? Che l'istinto non potrebbe. Quindi, capire qual è la persona che ti tiene forti, come dire, se tu vuoi ottenere un risultato, in qualche caso devi andare da chi ha il potere, insomma. Giusto? E comunque, sedurre una persona? Beh, sedurre. E dare, comunque, acquisire potenziale. Cos'è il potenziale? L'ascendente chiede su quella persona. Ascendente è logico, inizialmente, perché parliamo di persone iperlogiche. Prendere la sua mente. Prendere la mente logica, razionale. Deve, non deve, deve vederti come una persona affidabile. Le persone iperlogiche hanno bisogno di affidabilità. Dimmi. Scusa, in una situazione un po' complicata, in cui il suo grillo parlante poterete proteggiati. Eh, beh, interessante questo. Interessante, interessante questo. Interessante. Interessante. Acquisisci potere sul grillo parlante. Cioè, ovviamente non devi andare contro il grillo parlante. No, tu non devi andare contro il grillo parlante. Devi, eh, come dire, se tu seduci il grillo parlante, eh, per ottenere dei risultati... Beh, svegli. Eh, sbagliate. Si può, si può fare. Si può, perché ne parliamo. Questo è specificato. No, si può fare. Devi comunque acquisire potenziale sul grillo parlante. E a lui gliene parli. Gliene parli come se si fosse rapportato al becco in amicizia, però. Quindi fa un po' questo doppeggioco. Col grillo parlante entri, diciamo, acquisendo potenziale. E lui mi racconti. Sai che mi ha cercato Mizzio Caio per parlare così e per me, perché... E questa è la tattica. È chiaro? Si? Se una persona accetta il consiglio del padre, il tipo di relazione migliore per lei, quello potrebbe essere il grillo parlante? Se una persona accetta così il grillo parlante, no? Certo. Se una persona accetta così il grillo parlante, potrebbe essere il grillo di relazione migliore per lei, potrebbe essere il grillo di relazione migliore per lei. Ma può esserci più di un grillo parlante? Può esserci più di un grillo parlante, di solito ce n'è uno... però potrebbe essercene anche... perché di solito nella famiglia allargata potrebbe essere... è sempre un parente. Può essere un parente. Può essere, può essere. Ma dico nell'infanzia, le persone che hanno avvenuto forti, diciamo... Perché nasce il grillo parlante o eventualmente più di un grillo parlante? Perché dicevo, all'inizio la persona può aver avvenuto un'emozione molto forte, sofferenze emotive da bambino. E quindi, il grillo parlante è un buon ammortizzatore sociale, no? Come quando c'è, che ne so, uno resta... perde il lavoro e gli danno, come si chiama, l'assegno di man... no... L'assegno di man... no... l'assegno di man... no... l'assegno di man... e il grillo parlante fa quello, ti dà l'assegno di cittadinanza, diciamo. Ti dà la cosa di sopravvivere. Ok? Quindi acquisisce potenziale. Normalmente, da bambino, sono i nonni, le nonne, insomma, persone che ci sono vicine, le maestre, potrebbe essere anche più di uno. Domanda difficile. Sì. Sei la migliore amica di chi ha sempre avuto un video, ed è probabilmente se le porta tante a letto, con cui tu non puoi assolutamente comunicare? Beh, se sei guardato da letto, diciamo che il grillo parlante ricopre solo un ruolo istituzionale. Quindi, probabilmente, come... è difficile, è difficile. Cioè, con il grillo parlante ricopre un ruolo istituzionale è più facile che con l'amica di stia Lucignolo. La trasgressione... Pinocchio, parlo di Pinocchio. Il grillo parlante è la figura istituzionale, con quale non si scopa, diciamo così. Lucignolo, invece, sì. Quindi, potrebbe essere, ma non è... hai sempre la figura di riferimento, ma trasgressiva. Perché... adesso l'avrei anche detto, comunque... Allora, il grillo parlante, nell'iperlogico, è quello che dobbiamo tenere presente come, diciamo, figura a cui fare riferimento per acquisire potenziale. Poi, nell'iperlogico c'è anche il diavoletto, però, che sarebbe Lucignolo, quello che ti vuole far trasgredire. E noi, poi, alla fine, dobbiamo ricoprire quel ruolo lì. Dovremmo ricoprire questo ruolo, dopo che abbiamo acquisito potenziale. Cioè, alla fine, dobbiamo essere il lupo cattivo. Poi, prima ci presentiamo come nonna, poi dobbiamo diventare il lupo cattivo, alla fine. Perché, altrimenti, non cambierà mai le sue opinioni. Cioè, non è detto che necessariamente dobbiamo diventare Lucignolo, ma se... Però, in quel caso, se non dobbiamo diventare Lucignolo, dobbiamo già andargli bene così come siamo. Cioè, dobbiamo avere l'età giusta, dobbiamo avere i figli giusti o non avere figli, avere esattamente queste cose. Siccome, inizialmente, gli dici, sono da cosa con te, va bene così, ma poi alla fine, non vuoi disturbare il figlio, non è che diventi una patrice, ne puoi sei, perché non è contento, no? Alla fine, dobbiamo, nella seduzione, ristrutturare il suo modo di vedere le cose. E quindi, soltanto, chi lo fa trasgredire o chi lo fa trasgredire, quindi... Però, nella fase iniziale, dobbiamo presentarci istituzionali. Quindi, nella fase iniziale, con le persone iperlogiche, bisogna essere istituzionali. Ma istituzionale, ripeto, vuol dire adeguarsi a quella persona specifica, non istituzionale in senso assoluto. Perché in assoluto non esiste. Sono stato chiaro? Cioè, nel senso che, se lui va alla ricerca di un amante, deve essere l'amante. Il ruolo dell'amante è istituzionale, è chiaro? E se tu parti come Lucignolo, poi, col tempo, diventi il grillo parlante. Eh, e fai il contrario di quello che mi hai dovuto fare. Perché, inizialmente, ti viene etichettato come un po' mignota, diciamo così, oppure non proprio la persona giusta, diciamo. Non proprio la persona giusta, se tu lo fai trasgredire. Se sei una persona iperlogica, e tu ti presenti come Lucignolo, dice, questa non è la donna che fa per me. Per qualche motivo, eh. Potrebbe essere anche che lui cerca l'amante, e tu ti presenti come quella che vuole assolutamente. Invece è proprio il contrario, io mi presento come quella che vuole, invece, una relazione stabile. Eh, appunto, esatto, quello che c'è. Vuole assolutamente vivere. Esatto, esatto, è quello. Sei sempre trasgressiva, però. E il concetto di trasgressione di istituzione è soggettivo. Perché per una suora, per esempio, è trasgressivo ballare la Laplense in discoteca. Per una ballerina di Laplense è trasgressivo passare una notte in monastero. Però poi diventi grillo a fare la tua miglioramenta. No, 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 tu devi entrare, devi entrare nel modo, secondo l'istituzione devi entrare, secondo quello che per lui vai bene. Ha la sua parte logica, devi soddisfare quella parte lì. Adesso lo vediamo un attimino, ok? È chiaro però il concetto iniziale, ok? Quindi, è abbastanza chiaro le differenze di comportamenti, cioè come dobbiamo trattare i diperlogici. È chiaro per tutti, sì. Ma se penso ormai incredibilità, perché fatto uno sbaglio, che hai bisogno dell'aiuto di questo grillo parlante, come fai a comunicarci senza che poi lui fa a dire a persona amata che tu ti sei rivolta a lui? Beh, se tu, allora, le possibilità sono diverse. Se tu puoi interagire con il grillo parlante, mi sento che puoi interagire, devi acquisire potenziale sul grillo parlante. Altrimenti, se tu non puoi interagire, puoi sfruttare comunque il potenziale che ha Luca, questo grillo parlante di quel concetto di quella persona lì. Cioè, dicendo, ma che ne so, Paolo sarebbe d'accordo con quella cosa qua. Hai parlato con Paolo per vedere che tu non antagonizzi, perlomeno. E' chiaro per tutti? Per tutti. Allora, come riconoscere le persone emotive e iperlogiche? Faccio un breve accento, ma è abbastanza semplice. Beh, il test non verbale, ve lo ricordate, l'avete visto tutti? O non verbale? No, no, no. Allora, chi è che vuole venire qua? Una persona che vuole venire qua? Una persona che vuole venire qua? Sì. Aspetta un secondo, aspetta ferma lì che... che vuole venire qua?